Prosegue con importanti sviluppi l'inchiesta della Guardia di Finanza d'Imperia sul presunto concorso truccato di Riviaracqua, la società pubblica di gestione del ciclo integrato delle acque della provincia d'Imperia. Dopo gli arresti domiciliari scattati nei giorni scorsi per l'ormai ex direttore Gabriele Saldo e il presidente della commissione d'esame Federico Fontana, questa mattina le fiamme gialle hanno bussato alla porta di casa di Giorgio Negro, 65 anni, ex direttore generale della provincia d'Imperia e attuale coordinatore amministrativo di Riviaracqua. I finanzieri hanno perquisito l'abitazione di Negro prelevando documenti e computer. Negro, che era segretario della commissione per l'esame incriminato, è stato poi convocato nella caserma di Piazza di Amicis per le formalità di rito. Intanto la procura ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per Fabio Cassella, il dipendente di Riviaracqua che ancora lavora per la società pubblica, vincitore del concorso, oggetto di indagine. Cassella è infatti accusato di essersi fatto passare il compito d'esame dall'ex direttore Saldo che a sua volta lo avrebbe ottenuto da Fontana. L'indagine della Guardia di Finanza d'Imperia è coordinata dai PM Francesca Sussarello e Grazia Pradella.